Un gradito ritorno ad Agropoli dopo due anni, Lorenzo Molinaro. Innanzitutto bentornato e poi le tue impressioni su questa nuova squadra. Grazie, un gradito ritorno anche per me. Sono stato molto bene, ho solo bei ricordi. Questa squadra mi piace, mi piace già. Mancano due innesti stranieri, però il gruppo di italiani, per quello che posso dire delle mie impressioni, è veramente solido per ora. Si è visto anche in partite difficili. Partite difficili come quelle che abbiamo affrontato in queste due serate. Mi sto già divertendo, un gruppo simpatico con cui spero di fare un'altra bella annata. L'anno scorso tu hai giocato in A1 a Varese e poi sei passato a Ravenna in A2 al girone S. Sei tornato ad Agropoli per tua scelta perché viene a giocare da 4 ad Agropoli il tuo ruolo. Ma ti piace giocare anche ad esterno? Stasera hai messo diverse triple. È quello il ruolo che occuperai in questa squadra? Sì, diciamo che ho un ruolo che può essere adattato a seconda degli avversari. Posso giocare un po' da 4, un po' da 5. Dipenderà un po' da come vorrà utilizzarmi il coach. Comunque è un ruolo che mi piace. Sono contento della fiducia che mi sta dando la società e l'allenatore. Avrò responsabilità e minutaggio, che è quello che mi serve in questo momento come giocatore. Spero di crescere molto e di prendere ancora più fiducia. È tutto qua.